È stato firmato al Teatro della Val Graziosa di Calci il protocollo che entro un anno porterà alla comunità del Bosco del Monte Pisano. Presenti alla firma il presidente della regione toscana Enrico Rossi, l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi, i sindaci di Calci, Vico Pisano, Buti, Vecchiano e San Giuliano Terme e l'Unione Montana dell'Alta Val di Cecina. Obiettivi promuovere una gestione attiva e sostenibile del bosco e favorire l'aggregazione tra piccoli proprietari forestali nell'area martoriata dall'incendio che a settembre ha distrutto 1500 ettari di aree verdi. Il bosco per tanto tempo è stato una fonte anche di risorse, di reddito e quel bosco era il bosco ben tenuto, era il bosco ben coltivato. Noi dobbiamo creare le condizioni perché questo grande patrimonio ritorni ad essere esso stesso una fonte di reddito con la presenza dell'uomo. Un progetto pilota in Toscana che mette insieme in un percorso partecipativo enti pubblici e soggetti privati per curare il territorio e prevenire dissesto idrogeologico e incendi. Parte la prima comunità del bosco che è frutto di una modifica della legge 39 del regolamento specifico, parte perché noi riteniamo che qua ci siano le opportunità per ristabilire un equilibrio sia di carattere ambientale ma anche di fruibilità turistica e di valorizzazione di un intero comprensorio. Il Monte Pisano con il suo patrimonio di pino marittimo e latifoglie è anche uno dei 53 complessi del patrimonio agricolo forestale regionale, un patrimonio che la comunità di Bosco dovrà tutelare. L'obiettivo è semplice, quello di mettere insieme tutti quelli che sono gli interessi possibili sul monte, quindi i proprietari che hanno, come dicevo, delle responsabilità, le ditte, le aziende che lavorano sul monte, ad esempio la gestione dei legnami, piuttosto che tutte quelle realtà associative, cittadini che amano vivere il monte, sentieri, turismo sportivo, escursionismo, che hanno appunto tutti insieme l'obiettivo di tenere il monte vissuto. La Regione affiancherà i comuni e l'Unione Montana nel percorso verso la comunità del Bosco. Grazie. 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 Grazie.